Per le piccole stazioni a bassissima frequentazione, prive di possibilità di sviluppo commerciale, Rete Ferroviaria Italia si attiva per stipulare contratti di comodato d'uso gratuito con gli enti locali o da associazioni no profit. Questa mattina in provincia Pescara è stato sottoscritto il primo contratto tra Rete Ferroviaria Italiana nella persona dell'ingegner Luciano Frittelli con la provincia di Pescara rappresentata dall'assessore Mario Lattanzio che prevede la cessione delle piccole stazioni di Popoli, Torre dei Passeri e Tocco da Casauria, ma nella nostra regione, aggiunto l'ingegner Frittelli, sono molte di più le piccole stazioni che potrebbero essere cedute per non lasciarle nelle grado e nell'incuria. Diciamo che l'Abruzzo ha sicuramente un bel bacino per poter essere utilizzato in questa maniera, parliamo di almeno altre 20-25 stazioni di questa natura, perché? Perché sicuramente ci sono stazioni molto più importanti dove ancora abbiamo possibilità di fare invece dei contratti tipo commerciale, quindi noi in maniera prioritaria affittiamo i nostri locali, ma questo succede solo nelle città un po' più grandine dove ancora c'è voglia di aprire nell'ambito della stazione, quindi dove c'è movimento, dove c'è un po' di concentrazione diciamo di persone, anche dell'attività commerciale. Tali contratti dunque prevedono la cessione dei locali di stazioni non a più funzionali all'esercizio ferroviario per destinarli ad attività sociali, culturali e di assistenza, in cambio è richiesto che l'ente o l'associazione si faccia carico della piccola manutenzione, del controllo e della pulizia del fabbricato. La durata ordinaria di un accomodato si aggira dai 5 ai 9 anni, salvo casi particolari in cui la durata può essere stesa a fronte di importanti impegni finanziari sostenuti dal comodatario per la ristrutturazione degli immobili affidati. A popoli ci sarà l'inserimento della Croce Rossa italiana, dove ci sarà sia la parte sanitaria che la parte di protezione civile con la costituzione anche di una colonna mobile, usando degli spazi esterni della ferrovia stessa. Invece Torre dei Passeri e Tocco Castiglione saranno date in comodato ai comuni stessi che vi faranno altre attività sempre sul settore sociale.